Lo strombolino eruzione, dopo settimane di segnali, di esplosioni ai crateri e di oscillazioni dell'ampiezza del tremore. L'attivity microsimsica che denuncia la risalita di magma nei condotti. Ieri da quota 750 metri la lava uscita davvero e ha alimentato una piccola colata che si affacciata sulla parte alta della sciara del fuoco. La grande depressione sul fianco nord-ovest del vulcano che arriva fino al mare. Il picco dell'attivity di ieri pomeriggio. Intorno alle 14.30, dal cratere apparsa una tracimazione di lava che ha superato il bordo e ha cominciato a scorrere. Verso nord, nella zona che la popolazione locale chiama bastimento. Nessun timore per la gente di quest'isola che è una tralepì frequentata dai turisti dell'intero arcipelago delle eoli e perracce l'attivite fusiva al momento relegata sulla sommite del vulcano. Peraltro, il fenomeno effusivo si è esaurito nella stessa serata di ieri, poco prima delle 21, e se anche la colata dovesse riprendere vigore e ulteriormente avanzare. Il flusso si dirigerebbe in zone disabitate e non a rischio. Un'immagine delle webcam, tratta dal sito del link V di Catania. Lo stromboli e rutta, spettacolo alle eoli e piuttosto la fase esplosiva. La cosiddetta attività stromboliana, a essere potenzialmente rischiosa. E infatti da una settimana, dopo che l'allerta da verde è salita a giallo, una ordinanza impedisce a guide ed escursionisti di raggiungere le parti sommitali del vulcano. A tenere sotto controllo il vulcano. Cos come fanno con l'Etna anch'essa in questo periodo o in una fase di fermento? Sono i vulcanologi del link V di Catania. Anche attraverso l'osservazione di immagini. Sia normali sia all'infrarosso. Che arrivano in diretta. Lo stromboli inattiviti insomma. Almeno per il momento. Uno spettacolo per turisti e appassionati. Che in tempo di vacanze natalizie fa pure bene all'economia dell'arcipelago. Altro su MSN. La spettacolare eruzione dello stromboli alle eolie. Corriere TV. Sponsorizzato. Maggiore maggiore offerta Office 365. Un solo acquisto valido per 5 PC e 5 tablet. Download immediato maggiore maggiore.